E' durata qualche ora sotto il caldo torrido di questi giorni la clamorosa protesta di Enzo Sauno all'uomo visibilmente disperato per le condizioni sociali della propria famiglia che si è incatenato nella centralissima piazza del popolo, da tempo in cerca di aiuto e sostegno sia perché senza lavoro sia perché l'abitazione in cui vive sta cadendo a pezzi. Ieri ho chiamato i vicini del fuoco, giusto? Per la casa? Per la casa e ci ho detto la casa non è casa abitata, giusto? Io non offendo il sindaco io, io non offendo il sindaco, è un partito mio, giusto? I vicini cosa hanno detto? I vicini mi hanno detto fare l'esparto, in giornata stessa mi danno la casa, giusto? La casa è carente, non offendo a nessuno io. Quindi vuoi un aiuto? Io voglio un aiuto. All'anno ho fatto io una richiesta, mi hanno fatto il vaccino, ho fatto il corso. E ancora aspetto? E ancora aspetto. Tutto qua e basta. Alla fine dopo qualche ora di protesta ha prevalso da un lato il buon senso dello stesso Sauno e dall'altro l'intervento dei vigili urbani che con le dovute maniere hanno invitato l'uomo ad esistere dalla sua azione.